Sì, facciamo un video dove provo gli snacki d'avioni? Sì! Siamo a tutti ragazzi, sono Giuseppe. Sono Ieri. Benvenuti in questo nuovissimo video che è passato circa un mesetto, forse un po' di più dall'ultimo video, il trailer del pacco. Avete scoperto alla fine cosa c'era dentro il pacco e per questo ho commissionato a mio padre di fare una spesa al supermercato e di comprare snack italiani. Però che lui non penso che abbia capito, forse è stato un errore mio non aver specificato che avevo bisogno di roba made in Italy e che Nippon, quella scritta Nippon, che in giapponese significa Giappone, non poteva essere lo snack più sbagliato da comprare. Però vabbè, faccio stare che lui l'ha comprato, quindi ci ha convinto a vedere quello che c'è. Scusami Giuseppe. Che c'è? Tu hai mangiato ancora? No, è aperto. C'è il mio favore. Vabbè, iniziamo col video. Da cosa partiamo? Il cocco. Il cocco? Lo hacker? Ce ne sono due. Mi piace il cocco tanto. Mi piacciono i snack al cocco? Tabbè, Peppi? E' bene, non ti mangiare. Vai. L'italiano è vero, l'acchicata è vero. Nippon e l'azionismo. Perché? Lei c'è la mente ogni volta che noi non sappiamo creare queste linguette, no? Per facilitare l'apertura dell'izme. Mentre qua in Giappone invece lo fanno. Le tecniche loro. Ninja. Tu sfili un pezzo di carta e si apre, no? E si apre bene. Mentre che... L'importante non è come apri il pacco, ma come apri il pacco. Itadakimasu. Vai. Com'è? Buonissimo. Buono? Ma dici qualcosa in più. C'è una crema al latte all'interno di tre strati di buffer. E poi ricoperto con il cioccolato che non penso sia il cioccolato. Perché bisogna c'è il cioccolato al latte. E poi delle scaglie di cocco. L'acchicata è la più buona. L'acchicata è molto buona. Da una a dieci. Quanto gli dai? Da una a dieci. 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 Prossimo. Andiamo live. I love lion. Ok. Leo, perché sono un leo. Ah, è il leo del seno generale del leone. Se questo non è il suo preferito... Non ci interessa, a parte che questo mese... Non è vero, il prossimo. Lion in italiano? Leone. Ci sono molti leoni dalla schiena sui. Oh, pronti. Oh, è un sacco. Perché? È morbido. Perché c'è il caramello. È gommoso, vero? È tipo appiccicatico. Non appiccica, però è molto pastoso. Forse a causa del caramello mischiato con il buffer. Com'è? Australia ha molto buona caccia di Mars. Mars, ci abbiamo anche noi. Quindi non c'è qui oggi. Mars è assente. Nani è questo? La carne? Penso che siano dei cereali. Sì, è tipo granola, tipo cereali. Cereali di frumento. Proccanti. È molto buono, ma è molto buono. Non è vero. Cereali di frumento. E c'è cioccolato, c'è caramello. Amai. E dolce. Ah, è so. Sì, te. Voto da 1 a 10. Quanto gli dai? 1 a 10 è difficile, non è? Perché? Perché, scusa. 1 a 3 è meglio? No, da 1 a 10. Ma 1 a 3 è più difficile. Da 1 a 10 già c'è più variante. Se il numero è più piccolo, mi vuoi spiegare? 4. Ma è bassino. Andiamo al prossimo snack. Apriamo il buon grano con 100% farina integrale. Ricchi di fibra. E non fabbri. Com'è? Buono. Mi piace farina integrale. Non è buono. Ma non è buono. Buon grano con 100% farina integrale. Da 1 a 10 quanto vale? 8. 8? Ok. Ok, un buon punteggio. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. Wow. È buono, è molto a un gusto molto naturale. Lo sento molto un po' di gusto di terreno, di terriccio. Sento anche un po' i vermi. Dove sono in cielo. Prendiamo questo. Il Kinder Bueno è anche uno di quegli snack che non hanno l'apertura quasi idrata. Questo è così, è vero in Italia. È vero in Italia. E così. Abbiamo capito. Il Kinder Bueno è buono, è molto buono. Molto buono. Cosa ti piace del Kinder Bueno, Yuri? Questo crema di Hazelnuts. Non c'è questo, quindi questo è veramente... Kinder Bueno, voto? 10. 10? Come il coconut? Questo è la prima cosa che ho fatto, che Pepe ci ha detto a Tokyo. Andiamo al prossimo snack. Direi di provare la versione White, del Kinder Bueno. Ok. Era già separato, a metà. Pepe, è buono, questo. Per me è troppo dolce. Ammai. Però è molto creamy. Per uno, 7.5. Ok, andiamo al prossimo snack. Proviamo qualcosa di... Milka? C'è una Milka perché si scioglie velocemente questo qui, si è la Milka. Kawaii. Che figo. Che carina. Tipo formaggio. Kawaii. Questo tipo di confezione in Giappone è più apprezzata. Un bel medaglione. C'è le Olimpiadi. La medaglia dell'oro. Per il periodo 2020. C'è il정ico della Cielo Podcast. Autore della Cielo. C'è ilificso della Cielo Fin WAFFER. Secondo me questo cioccolato ci sa molto bene col pane Ah, sì, sì Ok, quanto gli dai? Vuoto 1 a 10 4.5 4.5, bassino Ok, come prossimo snack proviamo Chiglia cereale Chiglia cereale E il nome di chi l'ha inventato Si chiamava Alessandro Ok, silenzio Peppe, se? Tu non si chiama qui? Oh, non c'è Cosa, Peppe ti sono molto piacevoli C'è un cipolle, ma è molto più spesso Biscuiti Ah, sì? Ma sono 7 cereali C'è farro, avena, sara cerno, segale Grazie, mais, riso Segari? Si Mi ha fatto questo è molto più forte C'è un cipolle, ma è davvero molto più forte C'è un cipolle come c'è È davvero più di夕食 Ma è davvero più di più Occhio! Occhio! Ah, per te? Invece per me è proprio... Latte? Un biscotto che sta bene con l'altro! Quanto li dai? Ehm... Occhio! Nippon! Nippon! Mier shokonglad! Ma è tedesco? Ma lo saprei che è nippon, perchè usano il riso soffiato! Sì! Arrivederci! E ragazza! Mmm! Ma... ma odora di panettone! Ha accolto il nioio! Si si, proprio il gusto di fermentazione! Sì! Sì! Mmm! Mmm! Basta! 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 Che ne pensi a Nippon? 4.5! Ehm... è come se sti mangiando delle pareti di carton gesso! Torniamo i buffer! Abbiamo il low hacker con il latte pregiato! Non c'ho colato al latte così, è pregiato questo! Cacao e milk con cacao nella cialda e il latte pregiato! E qui il latte pregiato! Ci voglio... Rimarco nel fatto che il cioccolato è pregiato! Ci tengono a far sapere ai clienti che è pregiato! Sì, però non c'è pregiato! Sì, è double chocolate ma non c'è pregiato! Perché non c'è il latte! Dio, se non c'è il latte che non c'è il latte pregiato! Partiamo dal classico, ok? Classico al latte! Mmm! Ehm... 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 Sono un po' salati i biscotti Ok, allora quanto gli dai? Ok, siamo arrivati alla fine del video Penso di avere più zucchero in corpo Che sangue a questo punto Ok, quindi il tuo preferito Qual è?